Scintille di vuoto di Isabella di Soragna L'uomo inesistente Era morto nella propria abitazione a Bari, ma nessuno se n'era accorto. Di Vito Carella, nato nel 1928, non si avevano notizie da più di cinque anni. Il cadavere è stato trovato mummificato nel letto del suo appartamento. Era vestito e in ordine. Da questo fatto realmente è accaduto. L'autrice immagina un dialogo surreale col fantasma di Vito da parte di un curioso che riuscì a fargli un'intervista davanti al Cinema Arena. Con l'amichevole partecipazione di Giorgio Ginex. Buongiorno. Mi scusi la sfrontatezza, ma mi tolga una curiosità. L'ho osservata per vari giorni. Ho il presentimento che lei possa togliermi un dubbio esistenziale. Non so perché. Non ho niente da insegnare a nessuno e non sono per nulla interessante. Ma se proprio ci tiene. Ecco, io vedo questo corpo, questo brulicare di sensazioni, vibrazioni e lo traduco con l'abituale questo sono io. Ma che lei vede uscire la mattina alla stessa ora per correre la stessa via dentro lo stesso vestito. Un fantasma, creato dalle sue sensazioni e interpretazioni, nient'altro. Però lei, Vito, c'è lì dentro, no? Oppure... È quello che hanno cercato di farmi credere, perché me lo hanno detto tante, troppe volte. Lo stesso vale per lei. Non sono solo i matti a credere di essere quello che non sono, sa? Allora, chi è lei? È un segreto. Se vuol farsi due risate, mi segua nel mio itinerario. Venga. Allora, partiamo da casa sua. Così osserveremo le diverse situazioni. L'incontro con un vicino, il postino o lo scolaro che torna da scuola. Va bene, va bene. Già che lei crede ancora che sia io a incontrare tutta questa gente, Io non incontro nessuno, glielo giuro. Camminano e raggiungono il condominio di via Ravanas. Una bambina all'entrata gli sorride, ma Vito non la guarda. Un condomino borbotta un buongiorno, sempre senza risposta. Il fatto di non salutare la fa sentire superiore? O è così arrabbiato con la gente? Non saluto per nessuna ragione, mentre a volte saluto anche i passeri. Ma se proprio ci tiene a spiegazioni, posso dargliene un paio. La prima è che salutando mi separo dal mio ambiente e creo in me un'identità fittizia. La seconda è che possa tornare a credere a quello che i genitori, parenti e affini mi hanno inculcato. C'è ancora un rischio di ricaduta, non si sa mai. Lei è convinto di non essere separato da quello che la circonda? Com'è possibile? Dove finisce questo corpo c'è uno spazio e poi c'è il resto. Lei è... È quello che mi hanno fatto pensare fin da piccolo, per farmi funzionare a livello di sopravvivenza. D'accordo, per comprarmi da mangiare, chiedere il biglietto allo sportello della stazione, ma non stanno così le cose. Le confesso che mi sono sottomesso, ma in realtà non ci ho mai creduto. Ma com'è possibile funzionare normalmente se si è convinti che non c'è vera separazione? È qualcosa che dovrà scoprire da sé. Non ho niente da insegnare, come le ho già detto. Provi a interrogarsi. Sono il tal dei tali. Ma chi? Che cosa? Dove sono? E poi, cosa vuol dire io sono? Che sono vivo. Che esisto. Ecco il punto. Io sono convinto che non esisto. O meglio, che esisto solo se ci penso. Cioè, ogni tanto. Quindi, non può essere vero, no? Allora, se non esisto, fondamentalmente anche i cosiddetti altri non esistono. Altrettanto. Avviene solo se lo definisco e poi ci credo. Tutta la faccenda della separazione, e quindi dell'altruismo, non ha più senso. No? Le dirò di più. Se io non mi definisco, neanche un pochino, allora posso affermare che in realtà non sono mai nato, e quindi anche la parola morte perde qualsiasi significato. Ma, allora, quello che ci appare ora davanti cos'è? Un'allucinazione? Proprio così. Apre il suo porta-atti, che tiene sempre con sé, dà un'occhiata al contenuto, e poi lo richiude. Sono indiscreto, ma se lei non esiste, cosa se ne fa di un porta-atti? Vuole proprio saperlo? Non me ne importa se mi dà del pazzo, non c'è proprio niente di visibile in ogni caso. Le percezioni creano il mio mondo come il suo, e se non percepisco niente, quando apro la cartella, allora questo mi riconferma che ho ragione. Non posso più allucinare. Se vi mettessi delle carte, questo mi farebbe cedere all'impostura. È come un promemoria per me. A dire il vero, anche il niente può rivelarsi un imbroglio. Procediamo con ordine. Lei dice di non esistere, però afferma anche che ci sono delle percezioni che creano il mondo. Mettiamo pure che siano i miei sensi a costruire la realtà esterna, cosa che dovrò ancora verificare. Ma se non esisto, come faccio? L'uno non esclude l'altro. Lei può avere tutte le allucinazioni che vuole, ma non per questo ha bisogno di credere che non siano tali. Soprattutto non ha bisogno di credere alla più importante, che è quella di immaginare di esserci. Scusi, ma quando dorme profondamente, lei se ne frega di sapere se esiste, o no? No? E allora perché non continuare a farlo quando è sveglio, o meglio, crede di esserlo? Le rivelo un segreto. Dopodiché lei mi lascerà in pace perché avrà la conferma della mia totale e assoluta follia. Noi due adesso stiamo dormendo tranquillamente e sogniamo di parlarci. La differenza è solo questa tra noi, che io so e sono convinto di sognare. Lei invece crede di essere sveglio. Allora? Non creda di liberarsi così facilmente di me finché non avrò trovato il senso di tutto questo. Mi scusi. Senso, senso, tutto questo non ha alcun senso, appunto. Per questo le ripeto e le consiglio di andarsene, prima di farsi venire perlomeno l'emicrania. Allora per lei la durata e la località degli oggetti è ancora una finzione di una mente malata. Guardi quanti calendari e orari hanno inventato. Il tempo è un fatto di memoria. Ma se dovessi perderla? Posso essere certo solo di quello che succede adesso. Però è già passato al momento in cui ci penso. Ah, buona questa! L'ho trovata adesso, mi piace. La continuità è solo immaginazione. Come quando al cinema arena si ferma la pellicola e si vede un fotogramma fermo lì, poi un altro e poi ricomincia a correre. Se non c'è la manovella del pensiero e della memoria, addio! Tutto si ferma. Il suo film personale comunque, glielo giuro, è già finito adesso. E non le resta che guardarlo. Quello che non capisco è che lei non ha l'aria di un pazzo. A parte una certa originalità e una propensione alla solitudine, forse. Non riesco a metterla in nessuna... Categoria! Ecco il punto. Se io tolgo il collegamento dal mondo dei sogni, considerandolo come tale, il mio corpo è solo carne per i vermi. A questo punto posso ritornare nel mondo che io considero virtuale quello delle convenzioni imposte. E non me ne importa più di tanto. Se sparisco, sono altrettanto lei quanto qualunque altra cosa. Tanto qui dentro non c'è nessuno. Lei crede di abitare dentro alla sua testa, in qualche recondito angolo del cervello o chissà dove. Io vedo questo corpo. Un pacco di sensazioni evanescenti, costantemente interpretate da abitudini. Ma esso può fare quello che vuole, non mi riguarda, perché non c'è più nulla in cui possa identificarmi. Stia attento. Lei rischia di esplodere o di essere incinerato all'istante. Non capisco. Le sensazioni del mio fisico finiscono nelle terminazioni nervose delle mani, per esempio, o dei piedi. Poi c'è un vuoto e poi c'è lei. Ci risiamo. E va bene. Se le avessero fatto un lavaggio del cervello convincendola che è un cane, lei ora sarebbe qui a guaire. Del resto è successo con un bambino anni fa. O l'avrebbero già rinchiuso. A me non disturba che mi prendano per un uomo. E mi comporto per abitudine come tale, ma, come le ho detto, non mi trovo da nessuna parte in particolare. E dire io, o Vito, è solo una convenzione. Utile? Non un dato di fatto. La separazione tra me e lei è solo un fenomeno ottico, come l'orizzonte alla fine di via Ravanas. Immagino che i suoi parenti non la pensino come lei. Parenti? Parole. Parole, parole. A cosa servono i parenti? A parlare per non dire niente. Come stiamo facendo adesso del resto, io e lei? Recentemente mi avevano invitato a pranzo, ma ho scritto loro che erano successe alcune cose che non mi consentivano di accettare. Quali cose, se non sono troppo indiscreto? È successo che avevo venduto l'ultimo vestito buono e che mi era andata via la voce. Sarei potuto andare, certo, e dir loro quello che sto dicendo a lei avrebbe avuto un bel effetto. Mi avrebbero portato di peso all'ospedale. Ma lei sarà pure cosciente se sta parlando. Io non ne capisco niente, né di medicina, né di filosofia. Ho studiato ragioneria e quindi le consiglio di andare da chi ne sa qualcosa. Quello che posso dirle è quanto ho constatato dal mio osservatorio prediletto. Un trampolino alla piscina comunale che spesso è vuota. Guardo questo pacco di roba che hanno chiamato Vito e lo metto sul trampolino ed osservo da lontano. Beh, sono arrivato alla conclusione che quando non penso potrei anche essere incosciente. Mi pare di aver capito che la coscienza, ma nessuno mi crederà, è solo un insieme di sensazioni che hanno l'apparenza di una cosa unica. E noi la definiamo... come definiamo Bari? Dov'è Bari, secondo lei? Noi siamo abituati ad immaginarci che esiste effettivamente un punto da cui si misura una dimensione. Ma se il punto non c'è realmente, allora è come se tutta la costruzione fosse un castello di sabbia che in qualche attimo il mare fa sparire. Essere, esistere, non essere, non esistere, solo parole. Beh, se le scrivo e poi cancello ogni lettera, mi scoppia il cuore che non regge a questo oceano? L'infinito non è forse il cuore stesso? Certamente! Che cosa vuole che le dica? Nessuno mi può comprendere. Allora, capisce almeno perché non ho amici? Ne ci tenga ad avere relazioni? Non sono altro che mie allucinazioni. Uno stato di ipnosi che non mi riguarda più. Si svegli e vedrà. Stanno tornando al condominio di via Ravanas. Vito sparisce nel palazzo, senza fare alcun cenno. Qualche anno dopo scoprono il suo cadavere mummificato, vestito con cura, steso sul pavimento. Gli odori pestilenziali non hanno impedito al tempo di far scoccare le ore, i giorni e i mesi. Possiamo farci però una domanda. Se quello che Vito ha detto al signor X ha un qualunque valore. È possibile che tutto questo sia avvenuto qui all'istante e non nel passato? Come la bobina di un video può stare in una mano, così anche il film della sua vita e della nostra è una manciata di fotogrammi che un fiammifero acceso brucia in un attimo. Si può anche insinuare che comunque non è mai successo niente, tranne in una fiction di allucinazioni collettive. Il dilemma rimane. Vito era vivo o era morto? E noi? ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.